Le aziende toscane del trasporto pubblico locale si riorganizzano per partecipare alla gara regionale per il gestore unico in Toscana e nella sede della Cispele è stata presentata CTT Nord, la compagnia Toscana Trasporti nata dalla fusione delle storiche ATL di Rivorno, CPT di Pisa, Club di Lucca e più Lazzi. Il 65% della nuova CTT è di proprietà degli enti locali, il 35% fa capo a privati rappresentati dalla CAP di Prato. Si tratta in pratica della capogruppo di un sistema di imprese che insieme a CAP e alle partecipazioni nell'ATN di Massa e nella Copite di Pistoia rappresenta il maggior polo del trasporto pubblico locale in Toscana, 2.500 addetti, quasi 50 milioni di chilometri coperti all'anno per 152 milioni di euro di fatturato. Semplifichiamo, semplifichiamo la parola d'ordine non solo in questa fase complicata, difficile per l'economia italiana e toscana ma anche per poter competere meglio, per poter avere operatori più grandi per dimensioni, quindi economie di scala, quindi capacità di stare sul mercato e di poter competere. L'obiettivo è battere la concorrenza delle aziende nazionali ed europee nella gara con cui la regione individuerà fra pochi mesi il gestore unico per tutte le province. Forse abbiamo anche qualche carta in più rispetto ai nostri competiti perché conosciamo bene il territorio toscano. Tra l'altro la gara prevede che il 60% del punteggio sia sul progetto e quindi questo ci consente di sviluppare al meglio le nostre conoscenze del territorio. Ci sono trattative in corso perché CTT e HTM insieme a Sita stanno discutendo se è opportuno per loro concorrere a manifestare il loro interesse alla gara regionale insieme. C'è una discussione avviata dal tempo, abbiamo fatto dei prodotti d'intesa dal tempo, il lavoro è in quel solco, chiaramente per arrivare in fondo occorre ancora un po' di pazienza.